Il picco dell'influenza è arrivato a Piacenza e provincia con due mesi di anticipo e i piacentini a letto sono già 4.500, con febbre alta, tosse e problemi respiratori. Un vero e proprio record, con più di 200 accessi al giorno al pronto soccorso di Piacenza e personale costretta a straordinarie turni aggiuntivi per fare fronte a una mole di lavoro davvero enorme. Ma in questa ultima settimana, cioè sto parlando dal 23 al 29, noi abbiamo avuto quasi tutti i giorni oltre 200 accessi, quindi è un incremento del circa 15% complessivo nella settimana. Un incremento sostanziale anche di ricoveri, perché normalmente noi abbiamo una percentuale di ricovero inferiore al 20% su Piacenza. In questa settimana abbiamo avuto una percentuale di ricovero del 25%. Quindi cosa significa? Significa che abbiamo gestito patologie più complesse che hanno necessitato maggiormente di ricovero. Sta cedendo al pronto soccorso popolazione prevalentemente anziana, fragile, con copatologia, che presenta quasi esclusivamente un problema di riaccutizzazione respiratoria. E la patologia respiratoria normalmente è una patologia che ha bisogno di giorni per essere curata. E questo picco ovviamente ha generato una saturazione dell'ospedale. Per il pronto soccorso non si può parlare di emergenza, ma di giorni di grande congestione. Ovvio che anche le attese si siano allungate. Direi che nella mia esperienza di quasi 20 anni di pronto soccorso è la prima volta che mi trovo a gestire questo tipo di numeri. Si, molto sinceramente. Quindi per me è una situazione del tutto nuova e significativa. Io credo, è una mia analisi, che sia prevalentemente legata al fatto che l'influenza quest'anno sia arrivata in largo anticipo. La cruticità la stiamo superando, diciamo, facendo più turni coloro che sono disponibili. Quindi più straordinario. Sicuramente molto più straordinario, grande spirito di gruppo, grande collaborazione. Nel pronto soccorso e nell'ospedale. In totale nel 2016 sono stati oltre 61.200 gli accessi al pronto soccorso di Piacenza, il 5% in più rispetto al 2015. L'azienda sanitaria, alla luce di questo picco anticipato di influenza, ricorda l'importanza del vaccino, in particolare per bambini ed anziani.